Ciao a tutti ragazzi, io sono BlueLuckyBoy e oggi siamo su un nuovo gioco preso da Steam della rubrica Trial Steam Games Oggi precisamente siamo su Soul Walker Sembra veramente un bellissimo gioco Allora io avevo intenzione di giocare con il controller però vedo che non funziona quindi vaffanculo Mettiamo De Laxin Penso sia De Tush quindi sarà un server tedesco Creiamoci subito un nuovo personaggio Allora io sono un appassionato di anime Quindi ho appena finito di vedere un episodio di High School of the Dead E' una cosa stupenda Poi mi piace molto come personaggio questa stella Non lo so, mi ispira Che bello, che bello, che bella animazione Bella Dio, ho scelto anche figo perché io sono un appassionato di chitarre Quindi bello Dio, ci sta Ah qui penso che ci dovremmo personalizzare il personaggio Oddio Figata Ah, inseriamo anche il nome del personaggio Fregna Giusto per essere in tema Sicuramente non so minimamente come si gioca Però va bene Ok ragazzi, ok Oddio ma quanto è bella l'animazione comunque E' una cosa fantastica Sembra una di quelle animazioni tipo di drag Cattivi Cosa, cosa devo fare? Ok, devo camminare con questi quattro tasti Ok, ci sta Eh, beh ok Ah, devo salta Oh, figo Madonna quanto salta male Uii Proprio così Ehi, l'umaca, vieni qua Oh, l'umaca tua sorella Ma non si fa niente sta qua Come cazzo fa non farsi Eh Ora cominciano le cose brutte Eh Cosa gli sta nascendo dal culo, regà Ok, la chitarra Io sono una canzoncina, cos'è? La madonna Altro che canzoncina Che bello che sta parlando fregna Che cosa bella Questo bambino è caduto dal grande vuoto Ben, si è fatto male Oh, riga, mi sto divertendo un casino Lasciate stare le mie battute Cazzo è un Pokémon? Sembra un Pokémon, ve lo giuro Che, l'inseguimento canino Cos'è? L'onda energetica L'onda energetica Oh, riga, madonna Cosa, cosa sta succedendo? Tu sei me, io sono te Beh, te pare Esistiamo insieme come una cosa sola Non dimenticarlo, ci apparteniamo a vicenda Ma perché questa qua me guarda a me? Sì, vabbè, dai Su, basta, 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 basta Dai Ma quanto cazzo parlano? Ok Boh, andiamo Più che altro perché voglio giocare Non mi interessa tanto la storia Poi se volete che ci faccia la storia È un altro discorso Rucco Town West Clawdream Cioè Clawdream del West È in pratica la nuvola del sogno Del West Oddio Ma è pieno di gente A me non mi interessano tutte queste cose Voglio solo combattere Oddio Ciao Bella Salve Cosa fa? Cosa sta facendo? Ehm No Esco Ok Io voglio combattere Vai a cercare Seoni Allora, riga Dobbiamo cercare Seoni Da quello che ho capito Ma Seoni Chi è? Ah Ma io adesso ho capito Che qua C'è una freccia Qui, rega Qui c'è una freccia Guardate Qui C'è una freccia Ci dovrebbe Vaffanculo Vaffanculo Era qui Seoni Vaffan Gala Iniziamo Cazzo 20 minuti Oh Perfetto Vediamo Cazzo Sono 17 e 20 Uh Vado Dio Allora Ah, rega Vi ho ammazzato male Cosa volete fare? Cosa volete fare? Ah, rega Basta tutorial Madonna Vi blocca Già è poca la visuale Poi me la bloccate pure Quanto li sto ammazzando male Vado al prossimo settore Vediamo Rega, scusate Il commentario povero Però Questo gioco mi sta gasando Quindi mi piace Oh mio Dio Quanto l'ho ammazzato di male Oh Ok Bella sta cinematica Mi piace Oddio Ma come è volata male È volata malissimo Bello da Dio Tu devi morire male Oh Oh mio Dio Lo sto distruggendo Mi sta ammazzando male Raga Allora Sto gioco È bello Però non si Mamma mia Quanto mi ha fatto male Non capisco come schivare Perché non me li schiva Come faccio a recuperare l'energia Oh con la Q Ok Però quando c'ho le bibite Non ho più energia Da recuperare Oh forse No invece si Dai che è quasi morto Si Oh mio Dio È mortissimo Finalmente Oh che cosa bella Vediamo un po' Che cosa abbiamo recuperato Allora Sto gioco mi piace Ok Forse l'ho già detto Tante volte Ma chi se ne frega Mi piace Solo che È difficile da capire Senza joystick Perché io di solito Queste cose le gioco Con il joystick Col computer Non sono proprio abituato Oh mio Dio Cosa sta succedendo Sono in Cioè La mia stessa me È entrata dentro di me Oh No scusa Non volevo ammazzarti Oh L'ho accordata Fantastico Oddio Mi piace Torniamo Questi cosi che sono Belli da Dio Torniamo indietro Dovremmo tornare indietro adesso Si è Rocco Rucotone Allora io direi che per questo episodio è tutto Se volete un altro episodio su questo fantastico gioco che a me piace anche se devo ancora capire bene come giocarci meglio Allora direi che per questo episodio è tutto io vi saluto e ci vediamo nel prossimo episodio mi raccomando lasciate un mi piace e un commento se vi piace anche a voi questo gioco E noi ci rivediamo in un prossimo video Bella ragazzi Ciao 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 Ciao